E' partita, due di punti allievi maschile. Nel frattempo avvisiamo da preparare due di puntassegno femminile che partiranno da qua. Querini, Giudecca, Giudecca, Meolo, Canareggio e Mestre. E' un po' la riga dell'aglio, ma questo puto ne comincia a stare in borsa, la mia barra si sarebbe così. se no si parte così si parte tutti la verità l'hanno con le altre anche prima non si mette di rinforo magari è veramente gli ultimi la verità 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.